La promozione e i prossimi impegni in calendario dall'incontro con la nuova proprietà ai progetti che necessariamente includeranno il Sinigaglia. Presente in futuro nelle prime parole del sindaco Mario Landrescina all'indomani del ritorno in Serie C del Como. In primis c'è la gioia per aver riconquistato la categoria ed essere di nuovo tra i professionisti. L'obiettivo tanto atteso è stato finalmente centrato, dice Landrescina. Si è trattato di un percorso impegnativo, faticoso, che non ha risparmiato ostacoli ma che alla fine ci ha permesso di festeggiare.